Cittadini e sindaco di Roscigno faranno colazione insieme ogni mattina per discutere dei problemi del paese. La singolare iniziativa è del primo cittadino del piccolo centro degli Alburni, Pino Palmieri. Accoglierò tutte le mattine in municipio, afferma il sindaco, i miei concittadini e tra un caffè e un cappuccino ascolterò le loro proposte per migliorare la vivibilità del nostro paese. La colazione al comune prenderà il via lunedì prossimo 27 ottobre. Ogni settimana saranno invitati cinque diversi nuclei familiari del paese, ovvero coloro che si prenoteranno per fare colazione con il loro sindaco. I costi dell'iniziativa, precisa il sindaco, non graveranno sulle casse comunali. Una convenzione personale con il bar principale del paese è stata infatti siglata dal primo cittadino di Roscigno. I partecipanti all'iniziativa potranno indicare le loro preferenze per la colazione al momento della prenotazione dell'appuntamento.